No, l'altra volta vediamo ancora in generale, è tornata bene. Primo gira, il secondo, ti muovi di... no, no, ti... Sì, ti muovi di... no, no, ti muovi di... no, ti muovi di... no, no, ti muovi di... Vieni, 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 vieni... Tremato numero... Bravo... Vieni, vieni, vieni... Vai, 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 vai... tubo, tubo, tubo... Tubo, tubo, tubo... Vai, vai!